Il comando generale dei vigili Il comando generale dei diritti Il comando generale dei contelari possano diventare parte integrante del corpo municipale. È una proposta soprattutto che è mirata anche a salvaguardare i vigili urbani che invece il corpo stesso della Polizia Municipale, glorioso corpo direi, che in qualche modo salvaguarda l'immagine anche da eventuali tentazioni di personaggi, cellule magari deviate, magari poche però sicuramente ci sono, che possono in qualche modo compromettere l'immagine del Corpo di Polizia Municipale. A sostegno della richiesta di De Pierro, oltre al responsabile dell'Italia dei diritti del decimo municipio, Francesco Bartolozzi, anche il segretario romano dell'Italia dei Valori, Roberto Soldà. De Pierro poi questa mattina, mentre era incatenato, ha ricevuto, quasi a sorpresa, la disponibilità da parte del Comando Generale di essere ricevuto. L'essito dell'incontro tra De Pierro e il Vice Comandante Diego Porta ha avuto un esito positivo, segnando l'apertura di un dialogo tra le parti. Intanto lunedì scorso il responsabile del Movimento Italia dei diritti aveva chiesto anche un incontro al sindaco di Roma e da oggi, mentre si attende la risposta dal Campidoglio, inizierà una raccolta firme per una petizione.